Il cuore è lo stesso, l'anima no, perché la nuova GS col motore misto aria-lipido si riveste d'adventure e l'anima è ancora più avventurosa. Il motore quindi è il cuore già conosciuto sulla nuova GS con stessi valori 125 cavalli e 125 newton metro. Diversa però l'erogazione perché l'albero motore è più pesante di 900 grammi e si aggiunge un terzo parastrappi. Più inerzia è uguale spinta più fluida ai bassi con i vantaggi di avere una risposta più gestibile dove l'aderenza è scarsa, maggiore trazione e un posteriore più progressivo in caso di perdita d'aderenza. Insomma c'è ancora più margini. Il telaio non cambia ma le quote dell'adventure sì, in funzione della maggiore escursione che aumenta di 20 mm sia anteriore sia posteriore, del peso di 22 kg in più e del serbatoio da 30 litri da vera Globetrotter All Terrain, oggi ancora di più perché i consumi diminuiscono. Più corta l'avancorsa, 24,5 gradi l'inclinazione del cannotto di sterzo, più lungo l'interasse, con il braccio longitudinale della telelever rivisto in funzione di una maggior maneggevolezza. Tutto il resto è questione di avventura, anche e soprattutto in fuoristrada. Barre paramotore, fari aggiuntivi, sella più comoda, parabrezza maggiorato con paramani, piastra paramotore e pedane specifiche in duro con comandi, pedali regolabili. Aspetto ascendente che come diretta conseguenza vede l'altezza sella aumentare, 890 mm in configurazione standard o 910 mm in quella rialzata. Il risultato? Quote da primo approccio che spaventano un po', soprattutto nelle manovre da fermo visto l'imponenza del mezzo Adventure. Difidenza che, una volta partiti, svanisce in un lampo perché il motore è bello nell'erogazione, soprattutto a basse velocità, perché le modifiche ciclistiche hanno aumentato la maneggevolezza. Traduci, il baricentro è comunque in basso e la moto reattiva. Insomma, tra le curve la nuova GS Adventure è sorprendente, rapida nello stretto, stabilissima nelle curve veloci. Progressione eccellente e concetto all-terrain che ringrazia in un piacere di guida unico nel suo genere, appunto, Adventure. Protezione poi aerodinamica che cresce con i paramani e il parabrezza maggiorato che aiuta. Stesso concetto anche per il discorso elettronica che segue il percorso già visto sulla GS, controllo di stabilità ASC e ABS disinseribile di serie con due mappe Road e Rain, optional di Dynamic, Enduro ed Enduro Pro per controllo di trazione e ABS. A questo si aggiunge anche l'opzione del sistema DDC di sospensioni elettroniche e il quadro è completo. In conclusione, l'Adventure 2014 conferma l'essere la versione XXL della sorella GS, per chi sogna e poi affronta per davvero i viaggi a lungo, lunghissimo raggio su ogni tipologia di terreno. Per chi sogna l'avventura, il costo concreto 17.450 euro come la tradizione BMW, primo tagliando, incluso nel prezzo. Come sempre ricordate, se una moto vi piace, ditelo a tutti, ma se qualcosa non va, ditelo a noi.